Fai Giovani anche ad Agrigento. Siamo con Giuseppe Taibbi, capo delegazione Fai Agrigento e con Veronica Vella, responsabile del Fai Giovani. Siamo molto soddisfatti come delegazione Fai di Agrigento perché abbiamo realizzato un sogno, cioè quello di avere il Fai Giovani anche ad Agrigento. Fanno parte del Fai Giovani i giovani tra i 18 e i 35 anni. Abbiamo lavorato prima anche un po' per la loro formazione, è un gruppo molto motivato e accanto a me c'è appunto Veronica Vella che abbiamo indicato come responsabile. Insieme a lei come segretaria c'è Clara Scozzeri e poi c'è anche Marcello Carapezza come tesoriere. Sì, grazie. Sono Veronica Vella, appunto sono il capogruppo del gruppo Fai Giovani di Agrigento che si è finalmente costituito. Siamo un gruppo di giovani volontari che quindi mettiamo a disposizione il nostro tempo, le nostre competenze per promuovere la conoscenza, l'educazione e il godimento della natura, dell'ambiente, del nostro territorio. Quindi per diffondere una conoscenza più approfondita del nostro patrimonio artistico, storico e culturale. Ci occuperemo sicuramente di organizzare eventi e iniziative di svariato genere e interesse proprio per poter coinvolgere quanti più giovani possibile e quanta più gente possibile anche ad Agrigento. Per fare ciò sicuramente avremo bisogno e sarà fondamentale trovare dei volontari, quindi altri giovani che come noi sono appassionati e che con serietà vogliono contribuire alla missione del Fai. Quindi sicuramente chiunque di voi giovani sia appunto entusiasta come noi e abbia questa passione che ci contatti e che collabori con noi. Saremo felicissimi di diventare un gruppo sempre più ampio. Quindi grazie e soprattutto grazie alla delegazione di Agrigento e in particolare all'Avvocato Taibi.